buongiorno amici e amici bentornati a suona la sveglia inizia il make up ma avete notato da dove prendo la vascietta skin care lo prendiamo dal bradipo dietro di noi è un'idea dell'aiuto regista e ci teneva tanto 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 a dirvi che è stata una sua idea detto per creare qualcosa di diverso all'interno del video la parola di oggi è la fata scogliatolo io amo tantissimo gli animali questo ve l'ho sempre detto e sono affascinata tantissimo dagli animaletti quelli cute come per esempio gli animaletti del bosco ma anche dai pesciolini io amo tantissimo proprio in generale tutti gli animali ma non so ovviamente il motivo probabilmente sempre stato così dentro di me c'è questa passione per gli animaletti quelli ovviamente cute carini perché se sono diciamo un pochino spaventosi come il coccodrillo io vi dico la verità un make up glielo potrei anche dedicare al signor coccodrillo a cui do de lei però ne ho un timore assurdo ho paura anche solo a vederlo ritratto in una figurina dell'album di figurine quindi vi lascio immaginare la paura che ho dei coccodrilli vabbè serpenti ragni però sicuramente un make up potremmo dedicarlo anche all'amico signor coccodrillo fatemi sapere qual è il vostro animale preferito non deve essere per forza un animale domestico perché non dovete portarvelo a casa è solo una questione di simpatia e di preferenza c'è sicuramente un animale che tutti noi abbiamo sempre adorato nel mio caso è l'orso polare che ovviamente è un animale che anche quello mi fa un po di paura ma è super tenero nei miei occhi ai miei occhi ma gini pini brufolini e gli occhiaie da pandina anche oggi le contrastiamo con questo fondotinta di debora molto molto performante sembra chiaro ma non vi preoccupate che noi come sempre con le polveri sistemeremo la situazione e andiamo anche a minimizzare e correggere le occhiaie con questo incredibilmente fantastico correttore di scissedo costa penso un botto penso perché è passato tanto tanto tempo da quando l'ho comprato ma non riuscivo veramente ad aprire la confezione ci sono riuscita dopo tipo tre anni che l'ho comprato e sì la vostra lallix è un po in branatella abbiamo fissato la nostra base con la cipria di rimmel e ora creiamo la nostro combo blush di oggi con questo bellissimo blush delle super chicche le power puff girl che a forma di cuoricino all'interno ed è bellissimo e questo illuminante di pupa devo dire che pazzesca la combo blush mi lascia sempre a bocca aperta mi piace tantissimo fare le combo blush il prodotto lip car di oggi invece è il labello alla vaniglia è molto carino delicatamente profumato e lo utilizziamo in combo con il volume boost di bella oggi ma strega comanda color o anche personaggio dai oggi personaggio scogliatolo e la palette che utilizziamo è la bare harmony di mesauda la numero 206 devo dire che questa palette a vederla per esempio sul sito sembra molto più scura come cialde di ombretti invece dal vivo sono molto molto più chiari questi ombretti sono veramente molto belli e li vedo molto adatti a un make up da dedicare al nostro amico scogliatolo perché lo vedo delicato lo vedo molto soft nei colori e mi viene proprio in mente lo scogliatolo quando ho visto questi marroncini così belli mi è proprio venuto in mente uno scogliatolino dei boschi io ho applicato il colore più chiaro di tutti che si chiama luster nell'angolo all'interno dell'occhio poi ho applicato a tutta palpebra il marroncino un po glitterino che si chiama feeling e poi nella rima inferiore degli occhi ho applicato footage che è un colore marroncino non troppo scuro come mascara stiamo utilizzando il mascara di essence il lash princess quello col pack nero e fucsia devo dire che questi mascara sono incredibili mi piacciono tantissimo e pettinano e alzano le mie ciglia in una maniera incredibile altrimenti io le ho un sacco dritte il prodotto labbra di oggi è di kiko ed è il 3d hydra lip gloss numero 49 è una delle nuove colorazioni che sono da poco uscite ed è bellissimo perché è un po caldo e anche dei riflessi un pochino aranciati ma che sicuramente mi ricordano un po il bosco e secondo me ci sta benissimo con questo ombretto fatemi sapere cosa ne pensate del look di oggi se vi piace e se vi piace il nostro amico scogliatolino che metterò qua sulla mia mano io mi sono divertita come sempre a giocare insieme a voi con il makeup a creare il look di oggi come sempre vi mando un bacio grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio ci sentiamo nei commenti e vi auguro una bellissima giornata a dopo fate le brave e i bravi e abbiate sempre cura di voi